Centro operativo di sicurezza cibernetica, la nuova denominazione che abbiamo penso ora a fine ottobre. Comunicazioni, sicurezza cibernetica, purtroppo loro hanno sempre più lavoro e si stanno sempre più interessando a casa, perché tanto passa di qui. Allora io, quando arriviamo qui, dico subito una cosa per farvi capire cos'è questo. Dico sempre una cosa, questo oggetto qui che tutti avete in tasca, da qui passa tutta la vostra vita. Questo oggetto vi conosce di più della vostra famiglia, dei vostri colleghi, dei vostri amici, perché di qui passa tutto. Passano le chiamate, i messaggi della famiglia, al marito, al collega, al datore lavoro, all'amante, quindi questo vi conosce più di tutti. E loro fanno una bellissima cosa, credono anche distrutto e staccato, riescono a estrapolarci tutte le informazioni che ci sono tenute. Se un poliziotto vi busta alla porta e voi lo ripristinate dai dati di fabbrica, loro estrapolano tutti i dati uguali. E vi dirò di più, se un cellulare l'avete acquistato nel 2020 e avete fatto la portabilità come su cloud, rubrica, dati per il cristinato, perché non avete voglia di iscrivervi tutto da capo, su questo cellulare io troverò dati di prima della fabbricazione del cellulare stesso. Ok, dice la localizzazione, rubriche, contatti, ovviamente foto e quant'altro. In ultimo, in ultimo vi dico che questo apparecchio genera informazioni in entrata e in uscita, quindi quello che non si trova qui dentro, comunque se è entrato e se è uscito lo troviamo altrove. Ok, famosi messaggi end to end, criptografati, eccetera, sì, sono criptografati, sono sicuri per voi, per loro e purtroppo anche per chi fa un altro lavoro, che non è un lavoro, perché se lo sappiamo poi lo andiamo a trovare, non sono dati sicuri, non sono dati, ok. Ok, detto questo, ci sono tanti ragazzi, voi girate spesso sul web, il web che c***o...